Siri qual è la temperatura fuori ci sono meno 47 gradi la temperatura dell'aria in antartide è meno 26 gradi meno 20 gradi qui è meno 45 gradi o meno 47 gradi i nostri polmoni non sono abituati ecco perché tossiamo il clima qui è molto freddo e secco in questa zona abita una grande popolazione circa 300.000 abitanti Yakutsk è la capitale della Repubblica di Saka una regione autonoma della Russia a 280 miglia di distanza dal polo nord poiché questo luogo è il punto più a nord est della Siberia è molto isolato good morning anche se dire più un pomeriggio qui a luna e un quarto diciamo mister master maestro o semplicemente o semplicemente david linch it's december 21 2021 and it's it's tuesday here in nipols 57 667 fahrenheit around 13 14 celsius this means that è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo come siete accorti ho cambiato aggettivo invece di mite che andava bene per l'autunno lo sostituisco con fredda ovviamente essendo ormai siamo entrati in inverno con oggi today pensavo ad una cosa che ho visto ieri casualmente diciamo forse l'ha vista all'inizio del video un piccolo breve si pensavo a questa cosa che ho visto ieri che riguarda appunto questa Yakutsk non so esattamente come si pronuncia l'ho sentita così ma si tratta della città più fredda del mondo in Siberia vedere il filmato il link del video quindi vedere il video attraverso il link in descrizione per capire effettivamente che cosa si tratta per capire se è verità o lo sto dicendo poi diciamo pensavo che mi era stato l'anniversario della premiere di c'era una volta il West venuta 53 anni fa mentre mentre a Roma però appunto in Italia mentre oggi era l'anniversario dell'uscita proprio un giorno dopo quindi uscì proprio ufficialmente e poi al momento sul resto sto pensando a nulla se mi venisse qualche altra cosa in mente lo scrivo in descrizione Anyway as you just see from the window today absolutely we don't have non abbiamo si interrompe quindi una serie di diversi giorni 8 su 9 totali con dos beautiful blue skies e golden sunshine quindi ritorniamo all'atmosfera grigia piena di nuvole che dire ovviamente le cose posso sempre cambiare da un momento all'altro francamente la video è un po' dura ma batta solo e sui will see sede di so from the mythical window quindi da calare de courte purtroppo si un po' più illuminata tra questa inquadratura ma non bella come sempre come giorni precedenti and it's green roller shooter ovviamente inutile dirlo con enfasi quando il tempo è così però è vero non abbiamo dos beautiful blue skies di quella in stasciane ma abbiamo una non c'è no no ma non c'è no 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 fantastic and magical golden golden white balls from the christmas pine tree e quindi ci possono consolare ovviamente hanno la stessa potenza di losbiosi full blues casing golden sunshine li possono sostituire un saluto anche da letta del mythical window della cara white curtain gray roller shooter and finally from my mythical keyboard yamadi gx 640 ipg 625 eva a great day in all the people follow the channel the reports si un saluto diciamo veramente a tutti in particolare dan eurek su again a great day in all these people and everyone to chiosa non urgen non alzo assai la voce perché all'altra stanza c'è qualche persona in più quindi questo a great day